spari a gela tre feriti indaga la polizia operazione antidroga nell'agrigentino 17 misure cautelari niscemi controlli e perquisizioni 45enne arrestato dai carabinieri real maestranza il nuovo capitano è stato presentato al comune momento emozionante per giuseppe mangione rally di caltanissette del vallone vincono lombardo e spiteri bentrovati spari a gela tre feriti indaga la polizia fine settimana rovente a gela ma non c'entra il clima sabato infatti tre persone sono rimaste ferite nel corso di due sparatorie verificatesi nel giro di poche ore in bianiscemi prima e nella zona di macconi poi se i due episodi siano collegati e cosa ci sia alla base saranno le indagini della polizia a stabilirlo nel frattempo il prefetto chiara armeni ha convocato una riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza il primo episodio si è verificato sabato mattina intorno a mezzogiorno in bianiscemi nella zona dove sorge lo stadio vincenzo presti stando alle prime ricostruzioni un'auto si è fermata nella zona e dall'interno della vettura sono stati esplosi diversi colpi che hanno ferito due giovani di 23 e 25 anni il tutto in pieno giorno con passanti autovetture che transitavano in bianiscemi nel primo pomeriggio di sabato il secondo episodio nella zona di macconi stavolta i colpi sono stati sparati contro un altro 23enne che è stato ferito ad una gamba tutti e tre i feriti hanno dovuto fare il ricorso alle cure dei medici dell'ospedale vittorio emanuele ma le loro condizioni non sono gravi gli investigatori stanno ora cercando di mettere insieme tutte le tessere del puzzle e stanno verificando la presenza di impianti di videosorveglianza nelle zone dove sono avvenute le sparatorie per cercare di risalire all'identità dei responsabili operazione antidroga nell'agrigentino 17 misure cautelari oltre 140 kg di ascici sequestrati 17 ordinanze di custodia cautelare e 41 denunciati sono questi i dati dell'operazione della squadra mobile di agrigento denominata fish and drug indagati sono accusati di spaccio di stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità e tentata estorsione l'operazione è stata realizzata a porta empedocle ma misure cautelari sono state seguite anche a favara palma di monte chiaro e agrigento che questa attività è stata svolta sia in terra che in mare che ha consentito di sequestrare complessivamente quasi 150 kg di ascice e di accertare delle condotte illecide che nascevano in mare con il ripescaggio di queste tonnellate di ascice che erano state abbandonate effettivamente tra lampedusa e portempedocle in una profondità anche particolarmente elevata che venivano pescate e poi smerciate nel mercato siciliano dell'ascice in particolare da portempedocle si chiamavano a favara e palma di monte chiaro real monte e poi da lì continuava il loro percorso inchiesta è partita nel 2019 quando la squadra mobile di agrigento del commissariato di portempedocle hanno arrestato un empedoclino trovato con 5 kg di ascice l'indagine in collaborazione con la guardia costiera di portempedocle ha permesso il sequestro di oltre 140 kg di ascice e la denuncia di oltre 41 persone alla procura della repubblica di agrigento inizia da un'attività di polizia giudiziaria del commissariato di portempedocle che riesce ad arrestare un soggetto con oltre 4 kg di ascice. La tipologia dell'ascice che era sicuramente particolare ci ha indotto ad ampliare l'attività investigativa e a svolgere per diversi mesi attività di intercettazione sia telefoniche che tra presenti. In questi mesi è stato essenziale l'aiuto che è stato fornito dal supporto della guardia costiera che ci ha permesso in alcune attività che abbiamo fatto prettamente a mare anche nottetempo di riuscire a individuare il gruppo di soggetti che ci interessava, di raccogliere particolari riscontri. Nella fattispecie le 17 misure cautelari firmate dal GIP di agrigento su richiesta della procura sono state notificate durante la notte della polizia. Per tre indagati è stato disposto il trasferimento in carcere, per sei domiciliari e per tutti gli altri invece l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Un uomo di 45 anni di Niscemi è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di spaccio di stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di marijuana e hashish. Nei giorni scorsi i militari della stazione di Niscemi hanno eseguito una perquisizione in casa dell'indagato, già noto alle forze dell'ordine, alla ricerca di armi. Nel corso dell'accertamento però gli investigatori invece di scoprire armi hanno trovato gli stupefacenti. Nel dettaglio si trattava di 100 grammi di marijuana e 7 grammi di hashish. Quantità sufficiente per far scattare l'arresto. Subito dopo il 45enne è comparso davanti al GIP del Tribunale di Gela che ha disposto gli arresti domiciliari come chiesto dalla procura della città del Golfo. Controlli della Polizia a Caltanissetta 55 sanzioni in 15 giorni, 18 per mancata revisione del veicolo. La Polizia della sezione volanti nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguito in città ha accertato 55 violazioni durante la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. In particolare nelle ultime due settimane 18 persone sono state sanzionate per mancata revisione del mezzo, 6 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 9 per guida senza patente, 5 per omesso uso della cintura di sicurezza, 3 per mancato utilizzo del casco protettivo, 3 per velocità non commisurata, 2 per uso del telefono durante la guida e 9 per altre sanzioni. Sono questi i numeri diramati dalla nota ufficiale della questura di Caltanissetta sui controlli effettuati dalla Polizia di Stato, finalizzati a prevenire gli incidenti stradali e ad assicurare una corretta viabilità garanzia di tutti i cittadini del capoluogo Nisseno. Ordine dei Medici, incontro con i deputati regionali Mancuso, Di Paola e Catania. Un territorio Nisseno che ha le sue criticità in ambito sanitario e per affrontarle per valorizzare il territorio stesso facendo squadra. Con questo scopo si è svolto a Caltanissetta giovedì scorso nella sede dell'Ordine dei Medici, Chirurgi e Odontoiatri di Caltanissetta, l'incontro con i deputati regionali della provincia nissana eletti lo scorso 25 settembre. Io ritengo che la sinergia tra la classe politica e i tecnici che vengono rappresentati dall'Ordine dei Medici in quale istituzione che ne rappresenta 2.200 iscritti e direi anche di ampliare la tratea a tutti gli operatori sanitari. Questa sinergia non faccia altro che del bene a quello che può essere lo sviluppo della nostra sanità e quindi delle risposte che il nostro territorio può dare ai propri concittadini. Tra gli argomenti trattati, la sanità di prossimità, soluzioni e risposte per i cittadini, che siano pazienti, medici e operatori sanitari e le risorse del PNR con le relative opportunità. Così Giuseppe Catania, Michele Mancuso e Noccio Di Paola hanno accolto l'invito nella sala di via Enrico Medi e hanno incontrato il Presidente Nisseno dell'OMCEO, Giovanni Di Polito ed il Consiglio Direttivo. Oggi è stata una grande e bella occasione per cominciare un percorso di sinergia tra la politica e chi sul territorio vive appunto la sanità quotidiana. Noi abbiamo tutto l'interesse a fare squadra e soprattutto a affrontare le tante problematiche che non possono diventare oggetto di interlocuzione col nuovo Presidente della Regione e col prossimo Assessore alla Salute. In quanto rappresentante del territorio è chiaro che io ho tutto l'interesse a tutelare la sanità di questa provincia, sia quella ospedaliere che quella territoriale su cui bisogna investire in maniera decisa e ferma. Il nostro territorio in questo momento ha una forte carenza di buona sanità nonostante l'impegno di tantissimi medici che lavorano in condizioni veramente difficili. Allora noi abbiamo una proposta che presenteremo all'Assemblea regionale siciliana che è quella di creare un'unica azienda regionale siciliana o comunque di cambiare i paradigmi delle aziende sanitarie provinciali. Da parte mia ci sarà la massima disponibilità a fare squadra e soprattutto a mettermi accanto agli operatori per ascoltarli giorno per giorno e capire dove poter incidere e dove poter finalmente migliorare la sanità all'interno della nostra provincia. L'offerta sanitaria, la qualità dell'offerta sanitaria provinciale è certamente un tema che non può avere divisioni di colore politico. Ovviamente può avere visioni diverse, questo sta nell'ordine delle cose. Ci siamo trovati d'accordo su alcuni aspetti. Uno è l'esigenza di provvedere al reclutamento di nuovi operatori sanitari, soprattutto di nuovi medici specialisti, provvedere al potenziamento e alla stabilizzazione del personale sanitario attualmente in carico presso la nostra ASP e soprattutto rivedere il modello operizzativo. Covid nel Nisseno, 454 positivi nell'ultima settimana, 169 a Gela, 167 a Caltanissetta, 42 a San Cataldo. Sono 25.554 i nuovi casi di Covid registrati in tutta Italia, di cui 1.281 in Sicilia nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Nell'ultima settimana invece, in provincia di Caltanissetta, sono stati 454 i pazienti positivi al SARS-CoV-2, tutti in isolamento domiciliare. 169 sono di Gela, 167 di Caltanissetta, 42 di San Cataldo, 14 di Mussomeli, 13 di Santa Caterina, 9 di Niscemi, 8 di Son Matino, 5 di Vallelunga, 5 di Mazzarino, 5 di Delia, 4 di Montedoro, 4 di Serra di Falco, 3 di Butera, 2 di Campofranco, 2 di Riesi, 1 di Acquavive e 1 di Parianopoli. Ricoverati in degenza ordinaria 16 pazienti, 5 sono provenienti da fuori provincia, 4 di Gela, 2 di Caltanissetta, 1 da Villalba, 1 da Resuttano, 1 da Mazzarino, 1 da Marianopoli e 1 da Son Matino. Dimessi dalla degenza ordinaria 8 pazienti, 3 di Gela, 2 di Caltanissetta, 1 di San Cataldo, 1 di Resuttano e 1 di Serra di Falco. Deceduto un paziente di Serra di Falco positivo al SARS-CoV-2. Sono invece guariti 130 pazienti di Caltanissetta, 99 di Gela, 37 di San Cataldo, 18 di Mussomeli, 13 di Niscemi, 11 di Serra di Falco, 10 di Santa Caterina, 8 di Butera, 6 di Mazzarino, 4 di Delia, 4 di Milena, 4 di Vallelunga, 4 di Bonpensiere, 4 di Riesi, 3 di Montedoro, 2 di Acquaviva, 2 di Son Matino e 1 di Campofranco. Real Mestranze, il nuovo capitano è stato presentato a Palazzo del Carmine. Momento emozionante per Giuseppe Mangione. E ha scelto come capitano Giuseppe Mangione. Il nuovo capitano della Real Mestranza, che sfilerà durante la settimana santa del 2023, ha ricevuto un lungo applauso durante la cerimonia di presentazione svoltasi all'interno dell'Aula Consiliare del Comune Nisseno e moderata dal gran cerimoniere della Real Mestranza Gianni Taibbi. Il maestro Angelo Palermo, nonché presidente della categoria degli idraulici e lattonieri, ha anche presentato i maestri che sono stati scelti per ricoprire le cariche capitanali, e cioè l'alabardiere Vincenzo Milazzo, il portabandiera storica Domenico Cardillo, l'alfiere maggiore Francesco Mulè e lo scudiero Aldo Bellomo. È una grande emozione perché me l'hanno segnato questa cosa, però me l'ho portata avanti di piacere veramente. Speravo di fare pure il capitano e ci sono riuscito, diciamo, ci sono riuscito. È una grande giornata questa ricevere al Palazzo di Città il capitano e le cariche capitanali perché questo segna l'inizio della settimana santa 2023. Per noi la settimana santa è un evento importantissimo che riusciamo a fare prolungare anche durante l'anno. Il mio augurio al capitano Mangione e a tutte le cariche capitanali di guidare, come loro sapranno guidare sicuramente, una strabiliante settimana santa anche per quest'anno, che per la città di Caltanissette è sicuramente una grandissima occasione. Abbiamo mosso oggi i primi passi per arrivare a una settimana santa assolutamente bella, una manifestazione importantissima sotto l'aspetto religioso, folcloristico, di alto contenuto di coesione sociale. Questa festa, questa manifestazione è la storia della nostra città e la dobbiamo proteggere sempre per come stiamo cercando di fare negli anni passati e anche quest'anno. Si pensa adesso ai prossimi appuntamenti della Pasqua 2023. Il prossimo appuntamento sarà il 26 febbraio, la prima domenica di quaresima, al Teatro Margherita che ci sarà il passaggio di consegne tra capitano uscente, che sarà dei panificatori, pesticieri e cuochi, alla categoria entranti, che sarà categoria idraulici e lattonieri, che svolgerà le manifestazioni della settimana santa 2023, perché sono stati due anni sofferenti. L'anno scorso la capitanata l'abbiamo fatta un po' ristretta, perché si faceva o non si faceva, era qua e là, però siamo riusciti e con molta emozione riprenderemo le nostre tradizioni di cui tutti i nisseni teniamo e tutta l'associazione. Open day del volontariato nel giardino della legalità iniziativa della Nissa Rugby. Sabato pomeriggio si è tenuto un open day del volontariato al giardino della legalità San Luca, organizzato dalla DLF Nissa Rugby, dove oltre ad aver giocato con i bambini, hanno anche ripulito il giardino. Si tratta del secondo appuntamento, il primo effettuato mesi addietro nella piazzetta dei marinai. All'appuntamento di sabato erano anche presenti le associazioni Naponos, che hanno intrattenuto i bambini con giochi di recitazione, e i canuzzi di strada, rappresentati dall'assessore al ramo Cettino Andaloro e dal volontario Armando Torturici. Presente anche il presidente del comitato di quartiere San Luca, Nello Ambra. Un pomeriggio di gioia e spensieratezza, dove il presidente della Nissa Rugby, Giuseppe Logelso, ha sottolineato di come il rugby sia una famiglia. Questa, come molti sapranno, è il secondo Open Day dell'anno che facciamo per quanto riguarda il gioco del rugby di base per tutti i bambini. Naturalmente è proprio la federazione che ci dice di fare queste giornate in tutta la Sicilia, e noi come società organizziamo quella a Caltanissetta. Come ripeto, è la seconda che facciamo, la prima l'abbiamo fatta alla piazzetta dell'Ancora. Ora, questa qui, ancora prevedo che anche se c'è un buon afflusso, tanti altri bambini debbano venire, sicuramente. Siamo molti contenti. Volevamo farne una al centro storico in piazza, non per essere polemico, però era questo il nostro intento. Ma naturalmente ci vogliono molte... Non era facile che ci accettassero qualcosa del genere, però noi siamo contenti perché pensiamo, come abbiamo sempre pensato, che la Nissa Rugby è fatta da famiglie e come qualcuno potrà vedere ci sono molte famiglie. Con i nostri bambini seguono le famiglie e questo ci fa tanto piacere. Vuol dire che, come noi rispettiamo loro, siamo rispettati e evoluti bene da questi genitori. Sport, Volley, Alba Verde, Caltanissetta, capolista solitaria in serie B2 femminile. Continua il virtuoso percorso tracciato nelle prime due giornate di campionato dall'Alba Verde Caltanissetta. Contro il pedale, infatti, la squadra nissena, nella terza giornata di andata del girone M di serie B2 volle femminile, ha conquistato una netta vittoria per 3-0 lasciando alle avversarie solo 42 punti. Nella splendida cornice del Palacannizzaro, Spene e compagne non si sono concesse licenze, ottenendo il massimo risultato con il minimo sforzo. È stato vano il tentativo ospite, nella parte iniziale del terzo set, di opporsi ai costanti attacchi delle padrone di casa. Un match di totale dominio in cui si sottolinea la prova di Alessandria Angilletta, top scorer della gara per la prima volta in stagione in doppia cifra, seguita sul piano delle realizzazioni da Jennifer e D'Antoni, per cui la doppia cifra in questa prima fase del torneo è una dolce costante. Il servizio del pedale ha raramente messo in difficoltà la ricezione dell'Alba Verde, con ottime percentuali di risposta della stessa Angilletta, di una reattiva a Ferrarini e del libero Tilaro in continua crescita di rendimento. Ordinare amministrazione invece per Noemi Spena, mentre il 2 Angilletta ad Antoni è tutelata ancora una volta a Nicole Ferrarini, per consentirle di recuperare al meglio dall'infortunio che si trascina dalla scorsa stagione. Da sottolineare infine l'esordio della nissena a Marta Zaffuto, premiata per il grande impegno mostrato durante gli allenamenti. Niente campo invece per Millia Pruti, bloccata per un fastidioso torcicollo, e per Eleonora Porrovecchio, non entrata in campo a causa della conclusione anzitempo del match. Ora si attendono teste più probanti per misurare l'effettivo valore della formazione della presidentessa Oriana Mannella, a partire da sabato prossimo, quando l'Alba Verde si recherà gioiosa Ionica per affrontare l'imbattuta Sensation che la segue in classifica a solo una lunghezza di distanza. Questi intanto i risultati della terza giornata del campionato di Serie B2 volle femminile Girone M. Per una classifica che vede l'Alba Verde prima in classifica con 9 punti, seguita dalla gioiosa Ionica 8, Zafferana, Crotone e Fiestorretta 7, Cuscatania 6, Vallei 5, Saracena Comiso e Riccini e Stefanese 3, Region Reggio Calabria 2, chiudono a 0 punti Planet e Alus. Rally di Caltanissetta e del Vallone vincono Lombardo e Spiteri per la ventesima edizione. Roberto Lombardo e Alessio Spiteri mettono la loro firma sul ventesimo rally di Caltanissetta, bissando la vittoria dello scorso anno e aggiudicandosi il trofeo tornatore. Il loro successo nella competizione, valido come ultima prova della Coppa Italia e campionato siciliano, non è mai stato in discussione, vincendo tutte le prove tranne una, portando al successo la loro scoda fabbia assistita dal team D'Ambra. La corsa dei beniamini di casa è stato un vero e proprio show, dove il duo Lombardo e Spiteri hanno pennellato le curve davanti a tanti appassionati presenti. Dietro si sono piazzati Paolo Piparo e Francesco Pitruzzella. Sul terzo gradino del podio i turchi Bukhar Kukurova e Bukhar Akai. Sfortunati invece i veneti Versace e Crosilla, che dopo essere stati a lungo terzi hanno dovuto abbandonare all'ottava prova. Quarti i favaresi Licata e Giglio, su Peugeot 208. Quinto Maurizio Mirabile, su Alpine e Renault. Sesto il figlio d'arte Ernesto Riolo, con Mauro Marin. Settimi l'equipaggio Nisseno, composto da Locascio e Castelli, su Peugeot 106. Ottavi e Noni, due macchine in competizione tra di loro, Mattina Rosato e Gianfilippo Racuia, entrambi su Renault Clio. Mentre ha chiuso la top ten Zucchetto e Mancuso, su Peugeot 106. Nelle altre classi, in evidenza Francesco Bonomo con Kevin Schepis, che con la Peugeot 106 versione N2, si sono giudicati il gruppo R5-CN. E i solisti della classe A7, Nazareno Pellitteri, con Michele Lomonaco, su Renault Clio RS. E ancora Carlo Stassi, con Vincenzo Cosenza, primi di classe N3, sempre su Renault Clio. Successi anche per Michele Antinoro, con Michele Lodestro, su Peugeot 106, in classe A5. Per Emanuele Buscarino, con Salvatore Di Giorgio, primo fra le Racing Start, con la grande Pundo RS di Vendi. E per Gaetano Durso e Ivan Fantuzzo, vincitori di gruppo RCSN, con la Peugeot 106 di classe N1. Ha dominato la gara fra le vetture storiche l'equipaggio palermitano, composto da Giuseppe Musso e Massimiliano Alduina, che con la Porsche 911 Carrera RS hanno primeggiato in tutte le prove speciali. Seconda, con l'altra vettura di Stoccarda, una 911 di secondo raggruppamento, Enzo Barcellone e Girolamo Catalano. E terzi, Stefano Parisi e Salvatore Portera, sull'Angia Delta HF integrale di quarto raggruppamento. In quarta posizione hanno chiuso la loro prova Giovanni Spinnato e Fabio Mellina, vincitore del terzo raggruppamento. Calcio San Cataldese e Nissa non vanno oltre lo 0-0. Finisce 0-0 il match tra San Cataldese e Santa Maria Cilento al Valentino Mazzola di San Cataldo per l'ottava giornata del campionato di Serie D Gironei. Solo un punto per la squadra allenata da Pietro Infantino, reduce da un pesante 4-0 sul campo del Real Aversa. I Verdi Amaranto lasciano l'ultimo posto agganciando il Cittanova. Adesso testa al derby con il Trapani alla provinciale per tentare di conquistare punti preziosi in chiave salvezza. I risultati Canicattisa-Luca 1-1 Castrovillari-Real Aversa 1-1 Acireale-Trapani 0-0 Sant'Agata-Vibbonese 2-1 Cittanova-Licata 0-4 Lamezia-Ragusa 3-0 Locri-Mariglianese 2-0 Paternò-Catania 0-4 San Cataldese-Santa Maria-Cilento 0-0 La classifica Catania 24-Lamezia 19 Real Aversa 15 Vibbonese-Ragusa 13 Sant'Agata-Locri 12 Castrovillari-Licata 11 Canicattì-Trapani-Cireale 9 San Luca-Paternò 7 San Cataldese-Cittanova 4 Mariglianese 3 0-0 anche tra Castellammare e Nissa per la settima giornata del campionato di eccellenza risultato più volte in bilico nel corso della gara Al quattordicesimo Terranova raccoglie un traversone e di testa va in gol L'arbitro annulla per fuorigioco Al ventesimo replica Scribbani che con una conclusione dal limite colpisce il palo Nella ripresa Nissa in 10 per l'espulsione di Retucci Nei minuti finali cartellino rosso anche per Maltese del Castellammare E prima del triplice fischio i nisseni chiedono un calcio di rigore Per un fallo subito da un bianco scudato in piena area avversaria Intanto continua a tenere banco la questione dell'indisponibilità del Tomaselli E delle linee del rettangolo di gioco In una nota pubblicata sulla pagina Facebook della Nissa Il presidente Sergio Iacona scrive Vedere uno stadio pronto che non viene consegnato alla città È francamente intollerabile e inaccettabile Da più parti anche cittadini non solo sportivi Auspicano che l'impianto venga riaperto al più presto Per tutti gli sport e le discipline praticabili all'interno della stessa struttura I risultati del Girone A di eccellenza Castellammare Nissa 0 a 0 Parmonval Acragas 0 a 6 Cus Palermo Leonfortese 1 a 2 Don Carlo Sciacca 4 a 0 Enna Resuttana 0 a 0 Gela Mazzara 0 a 3 Profavara Oratorio Marineo 1 a 0 Mazzarese Casteldaccia 5 a 1 La classifica Acragas 19 Don Carlo Mazzarese Enna e Profavara 15 Mazzara 14 Sciacca 12 Casteldaccia 10 Castellammare e Leonfortese 7 Cus Palermo 6 Nissa Oratorio Marineo e Resuttana 5 Parmonval 4 Gela 2 È tutto, vi lascio al meteo e le informazioni di pubblica utilità Grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni Amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì Che vedrà ancora pressione atmosferica relativamente alta sul Mediterraneo centrale e sull'Italia Ancora una volta soffieranno correnti da sud quindi clima particolarmente mite Temperature ben oltre le medie del periodo Però il nord Italia avrà ancora un minimo di variabilità Lo capiamo dalla previsione della nuvolosità Con appunto dei sistemi nuvolosi che ancora in parte interessano il nord Italia Specie le regioni di nord-est Qualche velatura anche nell'Italia centrale ma lì senza conseguenze Come precipitazioni vi segnalo qualche goccia di pioggia Sull'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana E poi nelle estreme regioni nord-orientali Però fenomeni non particolarmente diffusi e intensi Quindi in definitiva ci attende un martedì all'incena del bel tempo al centro-sud Con qualche nuvola in più magari sull'Alto Tireno Diciamo qualche goccia di pioggia tra l'estremo Levante Ligure e l'Alta Toscana Per il resto ripeto al centro-sud ampie zone di sereno E temperature molto molto miti Anche al nord tornano delle schiarite a cominciare da ovest Ma sulle regioni di nord-est insisterà ancora qualche nuvola Con qualche piovasco specie in Friuli, Venezia Giulia Per tutti i dettagli e comunque sulle vostre località Consultate l'app gratuita di Trevi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Buonasera Via Edmondo De Amicis Servizio notturno La China Via Fraggia Ratana